Appassionati, bentornati con lo Stego, sempre al raduno di autosportive qui nel comune di Lamona, adesso c'è la partenza, ecco pronti tutti per la partenza, la M3, chiedo scusa M2, bellissima, considerata una delle migliori M E non poteva essere che il Boxer di questa splendida Subaru, ed eccoli in partenza, Renault, Clio La Yaris GR Opel, corsa, Ford Fiesta Focco, ritmo 125 Peugeot Peugeot Renault, Clio Audi S1 Honda Type R Golf, GTE Peugeot Questa non capisco, una Vaxual, tipo Opel Corsa, QR Ecco la Nissan 350 Honda, Renault, Clio Audi S3 Seguita da una Subaru Ecco che arriva l'altra Yaris GR bianca, splendida Subaru, l'altra Yaris GR Opel Opel Ecco che arriva la splendida integrale di Ettore Saxo BMW Z3 AMS1 Mini Vito Lancia integrale Clio Williams Se ci vado, l'è bellissima Saxo 500 Abarth Un'elettrica A112 Giulietta Ford Focus Honda Questa non l'avevo vista, mi ha sfuggita Bellissima Bellissima La C5 Saxo Audi TP Altra Delta E qui lo scalino meraviglioso Opel Qui una bella Mitsubishi Lancer Evo Ford Focus RS Ford Focus RS Ford Focus RS Altra integrale rossa Altra integrale rossa, anche questa bellissima Altra Ford Sierra Giulia Giulia Bellissima Giulia Fiat 1 Turbo Golf 3 serie Lotus Elise Honda i20 Hyundai i20 Ford Focus Honda Civic Type R Bellissima Ed ecco che arriva la McLaren Baren Porsche Meravigliosa Mitsubishi Lancer Evo rossa Polo GT BMW Hyundai i20 Ecco che arriva la 75, incredibile, il Leotto Turbo, Renault Clio, ancora una Clio, Ford da Fiesta, bellissima, BMW M2 che ho erroneamente definito M3, la 4WD splendida, Subaru carrellata di Subaru adesso, più di 150 le macchine, una Delta, ora una Subaru, 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 arrivano appunto Abarth, Opel, una bellissima Sierra Escort, scusate la Escort RS, bellissima, Honda Type-R, Seat, Citroën Saxo, Peugeot 205, GTI 1.6, punto Abarth, Honda E&E i20, Golf Corrado, Punto, Pieta, Type-R, Subaru, Clio RS, Ford, Golf GX, e qui una Polo R, bellissima, responsabile del mio occupene, qui c'è la Seat Cupra R, questa che non so bene cosa sia, Calibra, 827, Fiat 1, bellissima, Dov GTI 500A Marcialla, altra Subaru, mirata da donne, perdonate il provincialismo, altra Subaru, altra meravigliosa che bello, che emozione, Lio, Williams, 16 valvole, Golf G60, bella, ancora una Hyundai i20, che accelera più di uno, BMW, ed ecco la Renault Alpine, ed ecco il fine, fine gara, sempre la Mitsubishi Revolution, bellissima, e con queste ultime immagini chiudo questa bellissima carrellata di auto sportive, una M5 Station Wagon, ciao a tutti dallo Stego!